Musica Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, eccoci qui a PrimaTG delle ore 13.30 Andiamo con le ultime notizie quasi tutta l'Italia in zona arancione, il divieto di spostarsi tra le regioni fino al prossimo 15 febbraio con Lombardia e Sicilia che dovrebbero e potrebbero essere le prime zone rosse del 2021, entrerà in vigore nelle prossime ore la nuova stretta per evitare che l'Italia finisca nella stessa identica situazione di Gran Bretagna e Germania costringendo in quel caso il governo all'unica soluzione possibile, cioè un nuovo lockdown nazionale. Le ultime modifiche al DPCM valido dal 16 gennaio sono state illustrate all'esecutivo nella riunione con le regioni, i comuni e le province e precedute da una premessa del Ministro della Salute Roberto Speranza, la situazione non può essere sottovalutata lavoriamo insieme tempestivamente per anticipare le restrizioni ed evitare al virus una nuova forte ondata nessun passo indietro dunque con il rinnovo di tutte le misure già in vigore a partire dal coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 le scuole superiori in didattica a distanza al 50% e da lunedì e l'inasprimento delle soglie per accedere alle zone con restrizioni introdotte con il decreto approvato lo scorso mercoledì con RT1 o con un livello di rischio alto o ancora con un'incidenza di 50 casi ogni 100.000 abitanti e un rischio moderato si va in arancione con un RT di 1,25 si va in zona rossa anche perché gli esperti già conoscono i dati che la cabina di regia analizzerà nelle prossime ore tutti gli indicatori sono peggiorati nella settimana che si sta per chiudere e in base all'ultimo monitoraggio con le modifiche introdotte dal decreto solo 6 regioni rimarrebbero Gialle, Abruzzo, Basilicata, Campania, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta tutte le altre rischiano la zona arancione con la Lombardia e la Sicilia molto probabilmente addirittura in zona rossa se però a mandare in rosso la Lombardia sono i numeri a far scattare le restrizioni più dure in Sicilia è la richiesta del Presidente Nello Musumeci che sarà accolta dal Ministro Speranza qualche modifica rispetto alle bozze del Governo però l'ha fatta, il divieto di spostamento tra le regioni compreso quelle gialle sarà in vigore fino al 15 febbraio e non più il 5 marzo fino a quella data sarà invece valida la regola che consente una sola volta al giorno ad un massimo di due persone di andare a trovare parenti o amici nella propria regione se questa è in zona gialla o nel comune, se è in zona arancione o rossa e sempre fino al 5 marzo sarà possibile spostarsi nelle zone arancioni dai comuni con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti per una distanza non superiore ai 30 km e mai verso i capoluoghi di provincia il Governo ha poi confermato il divieto di asporto per i bar dalle ore 18 provvedimento fortemente criticato dalle regioni non porta vantaggi significativi sul piano della prevenzione e al contrario rischia di rappresentare un ulteriore fattore negativo di tensione sociale ed economica sui territori ha detto il Presidente della Conferenza Stato-Regioni Stefano Bonaccini a nome di tutti i governatori durante la riunione era stato il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia a rispondere sottolineando che l'Usecutivo avrebbe mantenuto la norma per evitare casi di movida ma Palazzo Chigi e il Ministro sarebbero messi a lavoro per limitare al massimo i rivieti alle sole bevande e alcolici nella bozza entrata nel Consiglio dei Ministri però di modifica non c'è traccia, sempre boccia ha garantito nonostante la crisi di governo massima priorità per i ristori a tutte le attività costrette a fermarsi tra queste c'è anche lo sci gli impianti non riapriranno almeno fino al prossimo 15 febbraio nonostante alcuni Presidenti chiedano che almeno nelle zone gialle sia consentita l'attività ai soli residenti chiuse anche palestre e piscine anche se si continua a lavorare per consentire la ripresa almeno delle zone gialle degli sport individuali così come dei cinema e dei teatri ritornano invece le crociere ed è confermata l'apertura dei musei ma solo nelle regioni gialle solo nei giorni feriali è un servizio ai residenti ha sottolineato il Ministro Dario Franceschini è un primo passo, un segnale di riapertura per il futuro non l'unico con il decreto viene introdotta la cosiddetta zona bianca in cui le uniche restrizioni sono il distanziamento e l'uso della mascherina ma i parametri per entrarci tre settimane consecutive di incidenza di soli 50 casi ogni 100.000 abitanti è un rischio basso fanno sì che ci vorranno mesi prima che una regione possa trovarsi a Milano gli studenti sono scesi in piazza per la loro protesta contro la DAD la didattica a distanza dopo il manzoni occupato martedì questa mattina alcune decine di studenti che fanno parte dei collettivi studenteschi hanno occupato due licei il classico Tito Livio e lo scientifico Severi Correnti per chiedere di tornare a scuola in presenza il prima possibile al liceo Tito Livio nel pieno centro del storico della città sono circa una trentina gli studenti che hanno occupato il cortile della scuola per manifestare contro la didattica a distanza e la 14.30 si terrà invece un presidio di confronto dove verrà elaborato un documento con le proposte per tornare ad una scuola in presenza gli studenti del liceo Severi in zona Sempione hanno posizionato i loro banchi invece nel cortile dell'istituto per seguire le video lezioni sulla facciata della scuola è apparso lo striscione con la scritta avevate in mano il nostro futuro e ce l'avete tolto anche al liceo scientifico Volta questo pomeriggio alle 15 si terrà un presidio per supportare i ragazzi che manifestano per la riapertura della scuola con una serie di interventi degli studenti in molte scuole superiori della città c'è fermento in attesa di sapere se lunedì 18 finalmente si possa tornare in aula in presenza dopo la sentenza del TAR della Lombardia che ha sospeso l'ordinanza regionale che prevedeva la DAD fino al prossimo 24 gennaio sono 17.246 tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia secondo i dati del Ministero della Salute le vittime sono 522 entrambi i dati sono in aumento rispetto alla giornata precedente quando si erano registrate 507 vittime 15.774 nuovi casi sono invece 160.585 i tamponi processati per il coronavirus in Italia secondo i dati del Ministero della Salute il dato è in calo rispetto alla giornata precedente quando i test erano stati 175.429 il tasso di positività è del 10,7% in aumento rispetto al 9 della giornata precedente sono 2.557 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il covid in Italia 22 unità in meno rispetto alla giornata precedente torna ad essere preoccupante la situazione della Lombardia con il maggiore incremento di casi covid in Italia 2.587 in 24 ore eseguita dal Veneto sale al 9,42% il rapporto positivi tamponi in Campania contro il 7,44% e la giornata precedente il bollettino dell'unità di crisi segnala anche 13.728 test processati e 1.294 nuovi contagi di cui 127 persone sintomatiche ben 41 le nuove vittime 10 nelle ultime 48 ore e 31 in precedenza i posti letto in terapia intensiva occupata sono 104 su 656 disponibili l'ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato d'urgenza in un ospedale del Principato di Monaco per degli accettamenti urgenti in ambito cardiologico la notizia è stata confermata dal medico personale di Berlusconi il dottor Alberto Zangrillo il quale ha spiegato di aver deciso lui per il ricovero dell'ex presidente del consiglio per un problema cardiaco aritmologico sono andato di persona a visitare Silvio Berlusconi questo lunedì ha detto Zangrillo e dopo averlo visitato ho disposto il ricovero urgente al centro cardiologico del Principato di Monaco perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia ha cercato di inquinare le prove per questo il GIP di Napoli al termine delle indagini dei carabinieri del NAS e della Polizia di Stato ha deciso l'aggravamento della misura cautelare che da interdizione della professione medica combinata lo scorso 3 novembre a cui è stata trasformata oggi in arresto domiciliare si aggrava la posizione del noto dirigente medico dell'Istituto Nazionale Tumori di Napoli Raffaele Tortoriello che secondo gli inquirenti della procura del NAS e dell'APS lucrava sui malati di cancro i carabinieri insieme con gli agenti del commissariato di Napoli e Renella hanno eseguito l'ordinanza cautelare emessa in seguito all'aggravamento del quadro probatorio a suo carico secondo quanto emerso dalle indagini il medico in più occasioni avrebbe tentato di inquinare le prove raccolte a suo carico per episodi di concussione e mal sanità il primario è accusato di alcuni episodi di concussione ai danni di alcuni pazienti affetti da neoplasia al seno dopo aver prospettato l'urgenza di un intervento chirurgico le induceva a sottoporsi ad operazioni a pagamento in altra struttura sanitaria un grave incidente stradale è avvenuto la scorsa notte a Mergellina a Napoli in pieno coprifuoco poco dopo la mezzanotte un'utilitaria per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltata finendo la sua corsa non lontana dagli chalet presenti in zona all'interno della macchina c'era una coppia un uomo di 39 anni una donna di 34 l'uomo è stato soccorso e portato all'ospedale del mare le sue condizioni non destano preoccupazioni la donna invece è ricoverata al cardarelli in codice rosso sulla vicenda indagano gli agenti dell'unità infortunistica stradale della polizia locale di Napoli a riportarlo e lanza sono 195 nuovi casi da coronavirus in provincia di Caserta secondo l'ultimo bollettino diramato all'aslo locale i tamponi effettuati sono stati 1924 per una percentuale di incidenza al test del 10,13% un aumento di quasi 3 punti percentuali rispetto alla giornata precedente secondo l'ultimo bollettino sono 286 guariti dal coronavirus che portano a una diminuzione di 102 attualmente positivi nella provincia ma aumentano ancora i decessi sono 11 nelle ultime 24 ore i comuni attualmente col maggior numero di casi positivi sono Maddaloni Mondragone e Caserta il sindaco di Presenzano Andrea Maccarelli ha parlato della situazione covid nella sua città andiamo ad ascoltare le sue parole ma invece devo constatare che solo nella giornata odierna abbiamo quasi superato le 10 positività per cui abbiamo superato in tutto oltre i 30 positivi all'interno del nostro comune e a questo punto ritengo doveroso adottare tutta una serie di provvedimenti che vanno nella direzione in un certo qual modo di prevenire il rischio di ulteriori contagi abbiamo da poco concluso diciamo l'ennesima interlocuzione con la direzione sanitaria dell'ASL e con l'ufficio di prevenzione attraverso la dottoressa Verrengia che vi ringrazio ancora una volta per il lavoro che sta facendo in questi giorni e presenzano come avete sicuramente saputo è uno dei comuni attenzionati dall'ASL perché in base al rapporto tra popolazione e positivi l'indice denota diciamo un certo allarmismo per questo motivo mi sono visto davvero un po' stritto come dicevo poc'anzi ad adottare tutta una serie di misure urgenti che cercano in un certo qual modo di prevenire queste problematiche per cui con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni sarà innanzitutto rietato entrare ed uscire dal territorio del comune di presenzano per chi non è residente o domiciliato sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporani motivati da comprovate esigenze lavorative situazioni di necessità motivi di salute o assistenza ad un proprio anziano diversamente abile resta comunque ferma la necessità di adottare comunque le misure necessarie di distanziamento sociale e di prevenzione già previste per tutta la popolazione chiaramente quando parliamo di motivi di necessità facciamo riferimento a tutti quelli che attengono le esigenze primarie delle persone da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile incluse le esigenze degli animali di affezione previa esibizione di autocertificazione sarà vietato ogni spostamento all'interno del territorio comunale sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporani motivate da comprovate esigenze lavorative situazioni di necessità motivi di salute o assistenza di un proprio anziano diversamente abile o per usufruire di servizi non sospesi previa esibizione di idonea autocertificazione le entrate presso le attività commerciali dovranno essere contingentate in base all'ampiezza dei locali sarà possibile recarsi presso gli esercenti dei paesi immediatamente più vicini solo nel caso si abbia bisogno di alimenti necessari ed introvabili negli esercizi commerciali del paese come per esempio per gli alimenti per chi ha delle intolleranze e quant'altro tutti gli esercenti del comune di Presenzano sono obbligati ad utilizzare come del resto stanno già facendo mascherine e guanti ed è necessario che sanificano più volte al giorno con appositi prodotti banconi carrelli ed in generale tutte le superfici e le aree di lavoro Niente allenamento ieri per il Napoli e sorpresa a Castelvolturno perché Gennaro Gattuso ha portato tutto il gruppo a pranzo ad Ercolano alle pendici del Vesuvio per stare insieme e ricompattare un gruppo in grave difficoltato con le ultime prestazioni non esaltanti una scelta quella del tecnico volta a ritrovare quelle energie e quella voglia di fare il risultato che sono determinanti in questo momento uno dei cruciali della stagione con all'orizzonte la Fiorentina e soprattutto la Supercoppa da giocarsi il 20 contro la Juventus al MAPEI Stadium non arrivano buone notizie dal fronte Osimè e il tampone molecolare a cui si è sottoposto il calciatore nigeriano è risultato ancora positivo inoltre l'ex Lille ha ancora problemi al braccio capitolo mercato in chiusura della trattativa tra Napoli e Marsiglia verrà Rekmilic offerta di 10 milioni più 5 di bonus oggi giuntoli parlerà col club francese per trovare l'intesa definitiva l'ex Ajax ha già detto di sì mentre per quanto concerne il discorso Malqui potrebbe veder sfumato il proprio trasferimento il Parma infatti è sulle tracce di Andrea Conti del Milan in entrata il Napoli monitora diversi terzini tra cui c'è un orfirpo e soprattutto però prima va valutata la situazione inerente a Fausì Goulam chiudiamo sempre con il calcio perché la casertana ha comunicato di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Francesco Rillo difensore di fascia sinistra classe 2000 che arriva in prestito direttamente dal Benevento dopo aver disputato la prima parte della stagione nelle file del Fano cresciuto nel settore giovanile sannita Rillo ha fatto il suo esordio tra i professionisti collezionando quattro oggettoni in serie B nella stagione 2019-2020 sono contento di questa opportunità e ringrazio la società per aver creduto in me commenta Rillo al momento della firma arrivo in una piazza storica che può rappresentare per la mia carriera una tappa importante sono un calciatore mancino che ama spingere e proporsi in avanti ma senza perdere di vista l'equilibrio che richiede il mio ruolo sono pronto e carico per questa nuova avventura per questa edizione di Prima TG è tutto appuntamento oggi pomeriggio sempre sui nostri canali un caloroso arrivederci a presto